siamo qui da cartel siamo qui da cartel a parte che l'isold gioca chitarino guarda qui c'è cartel questo è il nostro soggetto di oggi gioca al dda sul computer non so quanto si possa vedere dai 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 non so azio però quelle sono frecce ecco dai cartel su facci un po' esaltare esattamente magari dai c'è sponella dai o giusto per rendere conto alla gente che non fa casato lì c'è un cinquantaquattro combo vabbè ma cazzo fai di boxe dai guardalo 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 posso neanche le dita cazzo da come asci il computer che lo carico su youtube guardalo 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 non è possibile oh se non sente niente con questo no se non sente no no penso se non sente solda ecco fate lo sguardo impegnato di scratch di grande puffo dai grande puffo finito cos'hai detto ancora un minuto e mezzo buono eh dai dai fai un'altra questi sono i rombi di pesch i pentagoni non per scegliere un minuto e mezzo dai fanne una quella chi liege quella chi liege dai invia niente options infatti qui vediamole fatta tonica fatta tonica non ti rendi conto la faccia della viola la faccia della viola aspetta aspetta non si vede contro luce non cadere vero eccolo guardate lei in 40 secondi puoi impressionarmi in 40 secondi non c'è niente non mi roppere me si adesso vengo a provare io ma aspettiamo una pelle non è giusto e si si asura ahhh aiutiamola avanti cazzo è qui era più impressionato l'altro hai voluto giocare in due nell'uno si perchè fanno un pezzo l'uno mette nel tre è una cazzerina quattro tre saluta guiducci ciao